ma dove qui perché non andava avanti no cos'è questa mappa nuova non ci siamo mai stati qua non è nuova non è nuova ma non me la ricordo fate un attimo ma no teori di controllo fabbrica quale cavolo era questo perché mi sveglia oh carabelle questo pezzo ma si vede che magari quelle che ti segna sono le missioni che ha fatto per ti Andrea si Andrea c'è andato mi segna il disegnino di un uomino con cui dovevo parlare poi sono venuto qua e non c'era più niente sta impazzendo il gioco il gioco qua che impazzisce la play di mio fratello che non si sa che cazzo io che non posso uscire va bene vabbè non puoi uscire finché non sai che ti fanno il tampone e non sei l'esito però è una settimana chiuso in casa ecco qui per inferiore io mi sono andato a fare il tamponino in ospedale per andare in ospedale sono dovuto uscire mascherina guanti sulle mani e poi andare lì e farmi il tampone niente video del nostro arrivo mappa nuova mappa della missione allora c'è l'ultimo storico l'ultimo proprio ciao giulio assoluto mila che non ho ciao ragazzi ciao ragazzi buona festa anche a te ciao ragazzi che tanto dead sente feste e bestemmia per sente ero bestemmia perché poi le feste non posso neanche comprare migli altri due sente ero eh punto ma quando è che scade l'offerta bene o male a scala guardi verso il 20 gennaio ea se a posto che cazzo ah no questo è il matchmaking volevo scaricare ma che adesso è il destino che gli sta dicendo no aspetti ad agosto questa mappa mi 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 inquieta ehi chi è dei tumori sulla testa o si è ancora sono tutti gli alberi che si muovono per il vento la madonna che cazzo è the walking dead minchia questa base qua se la copio la faccio uguale su minecraft uguale La camera l'è ricostruita Eh ma qualcuno l'avrà ricostruita Questa cazza di nave Che è partita dopo Anzi Dicevano che era stata distrutta E' esplosata prima della patenza Mettela costruita Eh si Quindi non può essere neanche partita E' quello I packs sono venuti fino qua Questo è un corpo di un pack seminatore Ah c'è un collezionabile Allora ecco le spigole Cos'è? Scoperte importanti Genocidio Allora si vede di qua Quindi vado di qua Eh non c'è un cazzo Perché? Quando ha capito che i packs si stavano trasformando in ferali Ha ordinato di ucciderli tutti prima che accadesse Eh tutti quanti? Tutti i non necessari al campo Eh mi vuoi dire che adesso Ha ucciso questa Ha ucciso quello E qua ci sono i ferrari A rompere i coglioni ancora L'accampamento è un cimitero E' rimasto un cazzo Praticamente Vedi vedi Poi Mettiamo lui che era comandato A comandare Questo e quell'altro Poi vedi Ha un gran testa di cazzo E fa Un milione di errori E non lo puoi manco più fermare Non c'è niente C'è proprio zero Da cosa? Ah beh Questi van bene dai Finché sono questi Devo anche incendiarli Mi potete rivenire qua Finché sono questi Va bene Dai Lì per fuori Cazzatine varie Ah qui dentro Non si può andare Qui Non c'è una minchia Che è? Ah di qua Di qua dove sto io Boom Vulcano ovunque Ehi Così Così Drenosi Che Da un po' Muori un po' Eh Barci Quei grossi? No Di piccolo Oh ce ne sono altri Eh io vi rallento Anch'io Ho sempre quelli Ho sempre quelli che devono Sia rompi I coglioni Però Hai deciso dove andare Eh Desi e sinistra Qua E la Cazzo Mi manca la bomba termica Sta ricaricando Questa Si Ok Ah ma Rallenta tutti Cioè Non è importanza Da che distanza sono Scorpio Cileneo Cioè Ha una potata Illimitata Praticamente Quasi E tira Un colpo Decide Sta dicendo Che nemico A colpire No Cazzo C'è quello davanti Colpisci quello davanti No colpisci quello dietro Ocio Due alfa E tira meno E' un percazzo Così Ah ok Con le abilità del fuoco Però Li posso Normali Diciamo Un funzionante Quella che stai visando tu Mai che si ferma Cioè Rallentamento Quando carichi Ma su alcuni nemici Zero Ma questi Proprio Non si rallentano Ma non Ancora Broca Si Saranno Resistenti A tutti Boh Comunque Sono elite Questi qua Gli altri Minchia La tira L'abilità Però E modi No Motto Mi sta Vieni Vieni Indietro Vieni Indietro Vieni Indietro Alcuni Devi Posso bloccare Questo qua A me Non sta Venendo Da me Mi è potuto O ho potuto Bloccare Questo Perché Io sapevo Stare Buntando Blu Ah E' quello che Sputta L'uvelen 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 Di qua Di qua Neanche Là dietro Neanche Quindi niente Per forza Andar dritto Che è? Non c'è niente Non penso Quale cancello si aprirà? Questo qua? Ah c'è anche Una missione da fare qua davanti C'è una mission? Però non ho capito Ah si apre questo Ok Pensavo si aprisse l'altro Normalmente la missione che ci fa partire è quello delle protezionabili Si Evoluzione Vabbè facciamocela Evoluzione Ma te ci suono Evoluzione Deve si buttata a capofitto Ma cosa abbiamo? Solo una zona di mappa da esplorare Cioè solo sto pezzo diciamo O abbiamo più pezzi da intrauscire Vediamo un attimo No solo sto pezzo Penso Siamo qui Abbiamo solo sto pezzo Sì è il settore delle guardie Penso il settore di smaltimento siamo noi E il settore delle guardie Non lo so Non muoviamo di nuovo avanti Vediamo un po' Eh ci sto capendo tantissimo Vabbè già Bloccati Oh cazzo Ehi Ma lo colpisce o no? Caronna cristo Non lo colpisce Ah vabbè Ah perché non me l'ha fatto colpire Perchè non me l'ha fatto colpire In realtà l'abilità si è blocca Almeno questa si è blocca Guarda qui ti fa bloccare È colpo del sole Spazzata frontale Io lo sapevo che era quella Ah mo me l'ha fatto Tutti di usare Non ho capito che prima Non me l'ha fatto Tutti di usare Cos'hai? E qua Ah questo me lo fa bloccato Poco ma me lo fa bloccato Ah quello là in fondo del pericolo Si sta approfittando troppo Vabbè se vengono questi Bloccati Bella Anche l'abilità del blocco Comunque non è male Un'abilità del blocco Ciacca Tutti bruciati? Spostano Poi quello là è un po' un altro perinoso Non si vediamo Giustamente il mio personaggio non basti Non è stato Pensare che c'è un ostacolo Prima attacci Oh E questa? Da dove cazzo è uscita? Porfoo Da dove cazzo è uscito questo? Cazzo non mi aspettavo Ma guarda va va Fa dietro ma Ma la posso bloccare? No Penso di no No E dai Ma ste cagate così Un pezzo eh Fa uscire sti cosi Ecco Io con sto cazzo le posso andare di là Se non finisce No vabbè Ma le posso comunque venire Basta che Non è chiaro Ma perché c'è uscito questo? Non è tutto sai Ah L'ho bloccato 10.000 Ah Ma arrivano i I mustacciotti qua Dai vieni verso di me Non impulso Figgia di Vabbè Si avvicinano troppi Scopi ci venivano Guarda Il stillo automatico Ma come vi fa colpirmi da quella di stavo? Impulso Olè Ok mi rimani indietro all'inizio storia? Ah cazzo c'è più cold Eh Non posso Non posso Tammarmi indietro Perché non c'è di due Ah ma qua c'era C'è il taleno Lo sapevo Oh Ma che cazzo Beh grazie che poi rimango bloccato Maschera del predatore Eh questo cazzo Eh Si Ma tutt'altra parte Si Non d'altra parte si Non dite Eh Come l'ho fatto il cazzo Però Ma mori Mia Mia Almeno Dove Deve spazio per Intetreggiare Impulso Ah però Però l'ho fatto Tutto un'altra normale Dai Eh se magari si toglie Sesta roba Ah Dio E' un altro normale E io me ne vado Guarda Non riesco Ma che cazzo è successo Ma si blocca Ma si blocca Si però Impulso un'altra volta Sai che chiamai i suoi? No No Non so chi è che chiama Guarda Comunque Ti sto per fargli danno Ha chiamato i suoi No No Ma che ne qua Con piccolino Ah aspetta Ma lui è blu Si tornano male Un pochettino Oh E' un altro Ha chiamato i suoi I suoi piccoli O c'ho dietro Sbloccati Minchia blu E' diventato Un'altra volta Che cazzo Ma se usi l'abilitato Di lui Magari Ok Via Ma andiamo più a questi Ma se che cazzo Che scudo Ah ma non scudi più? Le tanta colpi Che ti faccio mangiare tutti Insta ma qua Non fa un cazzo Però non è che Fa proprio moltissimo Non fa veramente un cazzo E mori Ma ti sento proprio Come stai? Ma cazzo si sforza E' diventato blu? Eh si Mi ho portato Il posa posa Impulso Non mi sei nizeno? Ah si Vabbè Punti in uso Punti in Diventa normale Cenere E pure Lezione Vi voglio la vecchia arma Quest'arma qua Ma fa così schifo Che non gli faccio Gli faccio mille All'un colpo Che prego Gli faccio veramente un cazzo Impulso Schifo che è Leggendaria ma fa schifo Si vieni blu Ti butto Ma sto insomma Ma per cazzo Ripreso Oh cazzo Ho fatto quasi attacco Che Prende ma Non sono Non sono abbastanza vicino Proprio Si è Che cazzo Eccolo Ho finito di colpi Cioè Solo con la pistola Ci ho rimasto Poi 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 Tutte cose De merda Magari Ma c'è Dele Ma No Amica Bene Allora Questa 25 Che Aspetta ma c'è qua Perché mi segna qua Ah perché c'era questo Questo L'oggetto Mi chiamo lo segnava prima Mi andavamo avanti Senza sapere che Non so cosa ho preso Oh c'è anche un collezionabile qua Ma chi cazzo li ha visti sti cosi Qua vicino al Al cosmo Ah l'ho già preso Di cui ha fatto parte Manco lo sapevo io Che c'è un collezionabile Cioè non Io non l'ho visto Non lo vedevo Sembra che abbia scelto Di andarsi Quindi mi andò a andare indietro Dritto in una tempesta Dell'anomalia Ah vedi vedi Dritto in una tempesta Dell'anomalia Io ti ho detto Bene Ma che cazzo Vabbè Stiamo indietro Dalla tizia Però così Respaulano tutti Ma perché dovrei Portare un po' di calore umano Da seduto Non ha senso Non ha senso Che ne sono E le tre cinque Vabbè Dr. Zaidi Parliamo con lui Come va Il tuo posto Fa un po' male La schiena Dice No Sempre seduto qui No Non lo dice Questo è E' sempre Pomp action Tino via Ficile colpo singolo Ce l'ho già Buttiamo via un po' di roba Va Smantelliamo E' un botto di metallo C'ho Un botto di metallo Dicevano No Io c'ho i tempi di recupero Li ho trovati Ho trovato la nuova mod La moda del letto Mi fa ancora Perfetto E' il cifo Rift Town Tizione Gli amici di Shaker Town Che troia Così Dead cambia gioco No Che troia Sono ufficione Troppo vecchio Per guardermi Le remaster Di Grand Theft Auto Ma cosa che succede Meggio E' il cifo E' il cifo Non Perfetto Vediamo Piano Piano beato lui che riesce a trovarle le cose il remaster di san andreas ma porco dias neanche la definite edition per ps4 quella per ps2 e ma lui ha aspetta mo ti dico ti dico che cos'hanno su cosa stanno a me c'ho un figlio mi ricordo di queste dovevano trovarsi uno scatolone di giochi salvato dalla terra da un bambino viziato che non sarà sopravvissuto un anno su questa roccia riesce a immaginare un mondo dove la cuore è messo un gioco dei bambini nightwing a volte mi chiedono cosa succederà al mondo dimenticheremo il nostro passato ma io rispondo che non ci ho pensato perchè non permetterò che accada caporeparato questa non ce l'ho sta mod oi testimoni del tuo impegno tesoro time reaper ma dato ma dato un fucile leggendario che si chiama time reaper tempo di morire che cazzo di fucile ha i colpi infliggono delentamento ai nemici automaticamente così i colpi critici incrementano i danni critici del 50 per cento per 5 secondi trovo difficile accettare la fine ma suppongo che tu abbia trovato tre colpi ah fucile assalto standard praticamente e ma quello questo qua mi piace tantissimo che spade i colpi la tempesta di sabbia fanno malissimo poi rallenta andremo hito attenzione attenzione ah yancomi mi hanno dato qualcosa sugli yancomi e infatti per aggressione c'è qualcosa da riscattare sodico completate tutte una ricopezza declamata